Al via i bandi Cultura e Sport 2021, 530.000 euro complessivi sono stati stanziati da Publiacqua per sostenere il territorio. Realtà sportive e culturali per le quali, dice il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra, mettiamo a disposizione due specifici bandi da 150.000 euro l'uno con un incremento del 37% rispetto all'anno passato. Abbiamo aperto due bandi a partire da oggi fino al 16 di maggio per coloro che sono interessati a proporre dei progetti nel settore dello sport, soggetti giuridici, quindi associazioni, circoli sportivi, federazioni, per finanziamenti nello sport fino a 10.000 euro per progetto. Sono progetti che dovrebbero prevedere l'inclusione o comunque lo sport come veicolo per attrarre persone e invece per quanto riguarda la cultura un altro bando fino a 20.000 euro di cofinanziamento, anche questo con il termine del 16 di maggio. Quindi ci auguriamo di poter sostenere quanti più possibili buoni progetti per la ripartenza del nostro territorio nel settore della cultura e dello sport. Noi sosteniamo i nostri partner con ulteriori 230.000 euro, quindi noi sosteniamo il maggio, sosteniamo Pecci, sosteniamo Metastase, sosteniamo il Palazzo Strozzi e quest'anno sosteneremo per la prima volta e diventerà un nostro partner stabile il Teatro di Fistoia. Quindi qui sono 230.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 150.000 ciascuno di ciascun bando, per cui andiamo oltre il mezzo milione di euro, 530.000 euro per lo sport e per la cultura.